Valgono tutte e tre punti, è normale che quella contro la Juve è una partita importante perché c'è il valore della squadra, c'è il prestigio, c'è la storia di questo tipo di partita, ma non è che i tre punti di Torino valgano di più di quelli che possiamo poi avere contro l'Udinese, contro il Chievo. Noi andiamo a giocare una partita sapendo che sarà da affrontare una squadra la più forte in questo momento in Italia, forse anche in Europa, ma andremo con l'idea di rendere un grande impegno, di rendere comunque difficile anche a loro la gara. Io penso che a gennaio più o meno l'Inter sarà questa, in realtà noi stiamo già lavorando e stiamo già pianificando quello che sarà invece l'Inter della prossima stagione e quindi con un certo anticipo come è giusto che sia la programmazione di un grande club. Ci porterà sicuramente, se arriverà, esperienza e sicuramente tutti gli anni che ha passato alla Juve, ma anche in passato in altre esperienze, quello che può aver visto un uomo di calcio, che fa calcio da tantissimi anni, lo fa con esperienza, con passione, con capacità. Quello che ho detto anche in un'altra occasione, Marotta troverà anche un club molto forte, fatto di persone e di storie. Grazie a tutti.